Nell'atmosfera green di High Collie di Bergamo Golf parliamo di sport invernali e lo facciamo con Stefano Maldifassi, benvenuto, ingegnere biomeccanico, cinque volte campione italiano di skeleton, allenatore di quarto livello. Stefano Maldifassi ha scelto di candidarsi per la presidenza della Federazione Italiana del Sport Invernali per il quadriennio 2022-2026. Cosa l'ha spinto a candidarsi? Per fortuna quello che mi spinge è una grande passione, una grande passione verso una federazione che ho vissuto fin dall'inizio e quindi ho potuto viverla in tutte le sue forme. Questa passione poi per fortuna è diventata anche una professione, quindi all'interno della federazione stessa ho avuto modo di lavorare, ho avuto modo di crescere e soprattutto ho avuto modo di conoscere grandi uomini e grandi tecnici. Questo ha trasformato la passione in un'ambizione, quella di riuscire a costruire un piccolo modello, un elemento capace veramente di costruire i giovani, un elemento veramente capace di assistere tutte le professionalità della montagna. Il comparto della montagna è enorme, è grandissimo ed è ricchissimo di competenze e anche di risorse. Ecco, proviamo a ripelugare quelli che sono i punti cardine del programma che intenderebbe attuare in caso di incarico al vertice della Fisi. La proposta programmatica è divisa in due, c'è una parte che mette al centro l'atleta, stiamo cercando anche di trovare la forma migliore per rappresentarla e occupandosi dell'atleta parte veramente dai primi gradini, i gradini principali, quelli della scuola. Quando ancora non sappiamo che saremo atleti, però abbiamo un momento in cui possiamo apprendere sia dal punto di vista motorio che anche da quello puramente meramente educazionale. Per poi arrivare ai club, studiare i club, la proposta verso i club è una proposta di completa integrazione in questo percorso che l'atleta deve fare, perché i club dopo devono dare all'alto livello degli elementi pronti per lavorare ad alto livello e quindi cadere nelle organizzazioni zonali che sono rappresentate dai comitati regionali per arrivare poi alle squadre nazionali. Ecco, questo percorso dell'atleta è un percorso che vogliamo proporre e declinare in tutte le sue forme, quindi dal sostegno, quello economico, quello scolastico, avere dei tutor dedicati alla crescita parallela di questi ragazzi che non perdano pezzi importanti di quella che poi sarà la loro vita, perché dobbiamo pensare anche al dopo carriera sportiva. Quindi questa è la vita dei club, nella scuola essere noi capaci di proporre professionalità che affianchino i docenti che si occupano di educazione motoria a basso livello e che più in alto invece possono assecondare la specializzazione di questi ragazzi per occuparsi poi dei temi più importanti per quello che riguarda la performance di questi atleti che devono trasformare in un mondo professionistico, un mondo che ancora non lo è. Conosciamo le distorsioni del mondo dello sport italiano e noi con queste dobbiamo fare i conti e dobbiamo trovare soluzioni e soluzioni le abbiamo. Le borse di studio che accennavo prima possono essere un'alternativa ai gruppi sportivi militari, gruppi sportivi militari che fino ad ora sono stati fondamentali e devono continuare ad esserlo trovando una piena sincronia con il mondo, il percorso di crescita di questi ragazzi. È molto interessante il suo accenno allo Sciclub. È il primo livello, è l'entry level. È l'entry level. Ecco, come secondo lei andrebbero aiutati? Perché alcuni sono anche molto bene organizzati, però evidentemente hanno delle differenze, non solo a livello di organizzazione interna ma anche territoriale, zonale, logistica. Possiamo differenziare gli Sciclub, non necessariamente tra di loro ma anche al loro stesso interno. Quindi è una prima fase che è molto educativa, che deve preparare comunque un atleta a poter fare quello che fanno quelli che definiamo i grandi Sciclub, che fanno grande agonismo, grande preparazione, proprio quasi come fossero una squadra nazionale. Ecco, l'aiuto deve essere quello. Innanzitutto che siano perfettamente inseriti in questo percorso, che è un percorso che deve ritenere, ad esempio, è una cosa molto banale ma a volte poco seguita, l'età biologica, lo sviluppo di un ragazzo. C'è l'età biologica ma c'è anche l'età che fa i conti con le capacità di apprendimento cognitivo che non sono uguali in tutte le stagioni. Per fare questo bisogna dare disponibilità, dare supporto ai club con dei tecnici pensati proprio per avere questo ruolo, che non è più solo quello di essere tecnici del gesto tecnico in pista, ma devono essere tecnici che sanno matchare tra le tante caratteristiche e le tante capacità che un atleta deve avere. Quindi questo dal punto di vista etico, morale, formativo, dall'altra parte bisogna dare un sostegno che sì è anche economico perché li inseriamo in un sistema, ma di gestione delle regole, di lettura delle regole, di accesso a bandi, sono cose che se si fanno in maniera sistematica e globale possono diventare davvero la chiave delle opportunità sostanzialmente. Assolutamente, assolutamente. L'altro accenno molto interessante e se ne parla è il diritto allo sport, quindi i ragazzi che frequentano la scuola e hanno necessità ovviamente di allenarsi per svolgere attività agonistica. È possibile effettivamente arrivare a coniugare i due aspetti che sono fondamentali nella crescita e nella formazione? È possibile perché abbiamo dei modelli che ce lo raccontano, il modello austriaco è un modello che funziona, è riuscito a spostare, a scettare un pochettino la stagione di studio, quindi magari arrivare fino a luglio, fino a giugno, pensare, trovare delle soluzioni che forse adesso non sono ancora percorribili, ma devono aiutarci a cominciare a trovare soluzioni per questi ragazzi. Noi abbiamo delle eccellenze e lo sci è stato veramente negli anni eccezionali in questo, abbiamo creato questi ski college o comunque questi cluster all'interno, questi distretti all'interno dei quali gli atleti possono fare gli atleti di sci alpino o di sci di fondo o delle altre discipline della neve. Bisogna cominciare a pensare che ora abbiamo sci club di città che sono fortissimi, sono clamorosamente organizzati, sono organizzati molto bene ed è giusto lasciare i ragazzi che vivono i plessi scolastici nei quali sono nati, magari anche plessi scolastici di alto livello e noi dovremmo arrivare con delle proposte per non far pensare che i nostri atleti vanno in settimana bianca o vanno solo a divertirsi, fanno uno sport che per molto è divertimento ma per loro è un grande sacrificio perché vivere una città e allenarsi in montagna non è il training low, living high o viceversa, è un sacrificio vero. È un sacrificio vero che ovviamente coinvolge non solo i ragazzi ma le famiglie e quindi è un po' tutto il mondo della federazione. C'è un aspetto che, parlando di candidature naturalmente, non sfugge e c'è la sua attenzione al mondo social che non è una presenza banale. La sua presenza sui social, vedo anche su TikTok, è molto curata, è quasi un segnale, cioè vuol dire che c'è bisogno di cambiare anche sotto questo aspetto? Parlando ovviamente di comunicazione che la federazione deve svolgere nei confronti della base. La volontà è proprio questa, è quella di cominciare a mettere un primo tassello che è importante perché bisogna fare conoscere, perché bisogna fare sapere questa digitalizzazione, questa comunicazione così cappillare dà anche una grande opportunità, quella di poter parlare, comunicare, dialogare. Solitamente questo noi, la nostra scuola era abituata a farla in un contesto chiuso, dove al massimo si invitavano delle persone. Quindi questo mi affascina ed vuole anche essere un qualcosa molto diretto, molto capace di arrivare. Mi rendo conto che è anche un modo per accorciare i tempi, perché una persona che ha colto, ha raccolto queste informazioni poi ti fa la domanda successiva nel momento in cui ti incontra. Magari arriva anche preparata sui campi di neve. Esattamente, questo può essere anche un... Quanto meno consapevole di cosa va ad affrontare. Ad affrontare, a trovare. E questo può essere davvero un modo per allargare la base, perché noi abbiamo una base che piano piano un pochettino si sta stringendo, invece noi dobbiamo aprirci. Non possiamo pensare che queste discipline siano solo ad appannaggio di persone benestanti, quindi dobbiamo trovare il modo. E la comunicazione è uno strumento. Certo, quindi cogliere anche quelle che sono quelle figure inespresse, perché appunto magari vivono una sorta non voluto di isolamento. Quindi... Verissimo. È anche un modo per avvicinare la montagna alla città. Già questo avviene, come dicevo, grazie ai pulmini di questi sci-club che vanno avanti e indietro. Ma questo è anche un modo per raccontarsi in maniera più veloce e facile. Le elezioni di metà ottobre sono quelle che promuoveranno la squadra che sarà chiamata a gestire il quadrenno olimpico. Si va verso Milano-Cortina 2026. Ecco, quali sono a suo avviso le azioni da mettere in atto per questo importante appuntamento? La federazione è il collettore naturale di tante entità, dagli organizzatori di gara agli esercenti funiviari agli albergatori che sono coinvolti in questo sistema. Tante realtà che fanno parte di questo gioco. La federazione deve fare sintesi, deve riuscire ad essere propositiva verso le istituzioni che, come sappiamo, fanno sempre un po' fatica a lanciare questo evento, perché è un evento complicatissimo. Ormai i giochi olimpici di questo nuovo millennio sono dei business incredibili. La federazione si deve porre come consulente quando c'è bisogno, come garzone quando serve, deve mettere a disposizione le sue professionalità. Noi abbiamo un sacco di tecnici che non vivono più le squadre nazionali o che vivono gli C-Club e che sono disponibili, sono pronti. Il nostro mondo della montagna è un mondo ricchissimo, ma non solo dal punto di vista economico, come molti vogliono far credere. Sono ricchissimi di competenze, di voglia e di passione. Questa passione e questo desiderio di essere protagonisti potrà essere una delle chiavi di volta per supportare chi dovrà mettere mano al meccanismo olimpico. Quindi la federazione è una sala riunioni, è un basket di idee, deve essere pronta e coinvolta e protagonista in questo evento. Dalle sue parole io immagino una rete interconnessa, come un apparato neuronale che si parla continuamente. Mi piace, mi piace anche perché a me piace riportare un po' quello che succede fuori con quanto succede nel nostro corpo. E' un modo per sentirsi coinvolti, non essere periferici da questo punto di vista. Dobbiamo esserlo, perché un presidente da solo non può farle queste cose. O c'è una squadra forte e questa squadra riesce ad aumentare la sua potenza facendo sistema, coinvolgendo chi è in periferia o comunque chi è sul campo, se no questa sfida la perdiamo. Le azioni immediate che secondo lei il nuovo presidente deve mettere in atto da subito? Perché sono delle necessità evidentemente. La necessità prima è quella, quando parliamo della prima parte, è quella di coinvolgere i player che sono sul campo, quindi i sciclub, la scuola, i comitati, i gruppi sportivi militari e fare un attimo al punto con loro per trovare delle soluzioni nel brevissimo tempo, che è quella dell'organizzazione del percorso dell'atleta e della gestione delle squadre nazionali. Dall'altra parte c'è un tema di governance molto, molto importante che va potenziato, in alcuni capitoli va riscritto, bisogna coinvolgere gente del mondo della finanza, la federazione italiana sport invernali è a Milano, a Milano c'è il cuore della finanza, abbiamo già grandi relazioni con uomini di altissimo livello che sono professionisti, ma dico uomini perché quello sono e che sono pronti a mettersi in gioco e dare un grande booster su questo, perché poi tutto il tema della governance agirerà intorno a queste competenze, che sono competenze gestionali, competenze tecniche, che dovranno essere messe a fattor comune e servire questo grande progetto. Io vorrei chiudere con un aspetto soggettivo, vorrei far capire a chi ci ascolta come si gestisce, come si vive la fase post-agonistica, lei è stato un grande atleta, ha vinto i titoli italiani, ha rappresentato l'Italia in maglia azzurra, come si vive e come si organizza la vita di un… quindi come ci si propone poi, come nel suo caso, come candidato alla FISI? Prima l'abbiamo accennato di come supportare i ragazzi nel percorso scolastico, dobbiamo pensare anche a chi abbandona o chi esce da questo sistema dei percorsi post-carriera, perché saranno risorse, io sono un prodotto di quello, di questo mondo dello sport, ovviamente me lo sono dovuto costruire da solo, litigando con i miei genitori, trovando delle soluzioni, facendo dei sacrifici, mi permetto di dire, sono troppo pochi quelli che riescono a fare le due cose, a volte è impossibile, dobbiamo inventarci qualcosa per questo, dobbiamo fare in modo che gli atleti di oggi, che non sono degli atleti con una bassa disponibilità all'imparare, sono atleti ormai formati, perché un atleta di oggi deve saper comunicare, deve saper fare tante cose che una volta forse non venivano richieste, quindi sulla base di queste competenze bisogna aiutarli a costruire percorsi, percorsi che possono essere dirigenziali, perché gli atleti di oggi molti diventano i dirigenti domani, cominciamo a dargli queste competenze, io credo tantissimo in questo perché la mia proposta adesso di candidatura viene da questo percorso che ho imparato a fare, ho avuto delle grandi opportunità, sono stato molto fortunato, ho vissuto diverse discipline e diversi ambiti del mondo dello sport, però non tutti possono essere fortunati come sono stato fortunato io e tutti devono avere l'opportunità anche per quel diritto allo sport, ma continuare a vivere di sport. Si parlerà ancora della sua candidatura evidentemente, io la ringrazio per aver manifestato un po' quelli che sono i suoi obiettivi, che saranno sicuramente stati colti e quindi magari ci ridiamo appuntamento, qui abbiamo vissuto come ho detto all'inizio la cornice green, insomma io un po' alla montagna, abbiamo i colli di Bergamo Golf, si è un richiamo e speriamo che arrivi la neve. Il green sarà comunque anche uno dei temi da affrontare. Grazie a lei. Grazie a tutti.